La caratteristica principale della nostra squadra è quella di non mollare mai. I ragazzi hanno dato veramente non il massimo di più. E quindi anche quest'anno partiremo da quella base perché se lo meritano, se lo sono conquistato sul campo e noi ci crediamo. Se noi vogliamo ottenere tutti insieme un risultato dobbiamo fare senso di appartenenza, stare vicini ai ragazzi quando avranno bisogno del nostro aiuto perché con le squadre che ci sono ci sta anche che soffriremo. Le sensazioni sono quelle dell'anno scorso, quando ci davano dalla parte destra della classifica. La squadra del Sestri ha fatto la storia, questo dobbiamo essere consapevoli. È un risultato storico che dà orgoglio alla società, all'Unione e a tutta la città. Trovare una tifoseria proprio come quella del Sestri Levante è cosa rara. E quindi credo che quest'anno si possa fare davvero un grandissimo risultato, sia sportivo che come città. Noi stasera siamo contenti di essere in C con la nostra navicella guidata dagli Ultras, come la canzone che viene dal mare. Ecco, noi siamo con la navicella che è sbarcata nella Serie C. Il capitano, Massimiliano Fane! Che si appresta ad affrontare il campionato di Serie C dopo ben 74 anni!